Quando devo elaborare un processo fotogrammetrico con dei dati che ho rilevato in campo, una delle prime cose che faccio è lanciare un'elaborazione molto veloce. Questo mi permette di capire se i dati che ho acquisito, soprattutto le immagini che ho scattato, o meglio, solo le immagini in questa fase che ho scattato, sono buone. E se il risultato è soddisfacente, il risultato di questa elaborazione veloce è soddisfacente, allora sono abbastanza confidente che il risultato in output sarà buono. In questo video ti faccio vedere come puoi utilizzare lo strumento di progetto rapido dentro software 3D Flow Zephyr che ti permette di fare proprio questo, di lanciare un'elaborazione veloce senza doverti troppo preoccupare dei parametri che governano i vari step e arrivare al risultato che ti permette di capire come è andato e come sarà una sorta di proiezione di come sarà poi la tua elaborazione finale. Il dato che hai in output, per il fatto che manca dell'appoggio topografico, non inserisci in questa fase i ground control point, puoi sempre farlo dopo, però durante questo processo non li usi, è un dato che potrebbe essere orientato in maniera scorretta. Ti faccio vedere quindi anche un altro tool molto interessante che ti permette di sistemare quantomeno piani orizzontali verticali del dato in output, del modello 3D in output che hai alla fine di questa elaborazione. Allora per lanciare un progetto rapido devi andare qui, elabora, progetto rapido. Quello che ti chiede Zephyr in questa finestra è di dargli la cartella dove ci sono le immagini che vuoi elaborare, quindi devi solitanto selezionare una cartella, io l'ho già selezionata, quindi vado sopra, la riseleziono, cartella con le immagini e poi devi scegliere quali sono gli step che vuoi fare nel progetto rapido e quali sono i parametri che vuoi utilizzare in questo progetto rapido. Progetto rapido non vuol dire di scarsa qualità, potresti fare anche un progetto rapido utilizzando elaborazioni di alta qualità. Rapido vuol dire che non intervieni nel dettaglio di ogni singolo step lavorando sui parametri e soprattutto non utilizzi la parte di orientamento con punti a terra, con i punti di appoggio. Ogni step è individuato da un nome, nuvola sparsa, nuvola densa, mesh, mesh con texture e ogni elaborazione ha due tipi di parametri. Il primo parametro parlando nella nuvola sparsa ti permette di capire qual è il dato che hai rilevato e qual è la scena che vuoi ricostruire e quali sono le immagini che stai trattando. Io utilizzo delle fotografie aeree, potresti utilizzare altri tipi di dati e voglio fare un'elaborazione veloce. Puoi anche andare su analisi profonde se ti interessa. Poi scegli la nuvola densa, potresti anche fermarti alla nuvola sparsa quindi non devi andare avanti. Clicchi sulla nuvola densa, scegli anche qui qual è il tipo di dato che stai trattando. Di nuovo foto aeree, potrebbe essere ambiente urbano, corpo umano, oggetti vicini o generico e di nuovo scegli l'elaborazione. Io lascio tutto veloce. Puoi andare avanti selezionando la generazione della mesh, scegli di nuovo che tipo di elaborazione deve fare il software in base al dato che sta trattando. Di nuovo foto aeree, veloce. E poi alla fine se lo vuoi utilizzare ha anche la possibilità di fare una mesh con texture. L'opzione qui è soltanto generica ma qui puoi andare nel dettaglio partendo da bassi poligoni fino a dettagli elevati. Io lascio tutto a livello base ma puoi fare tutte le scelte che vuoi in termini di qualità dell'elaborazione. Chiaramente puoi fermarti prima ma per esempio se tu disattivi la nuvola di punti densa ebbe necessariamente tutto quello che viene dopo, la mesh, la mesh con texture essendo dei prodotti tra virgolette in cascata non li puoi generare perché hanno bisogno della nuvola densa per essere generati. Ora io cliccando su avvia viene lanciata l'elaborazione. Richiede pochi minuti però io l'elaborazione l'ho già fatta per cui non lancio avvia perché altrimenti il computer rischia di andare, la CPU rischia di surriscaldarsi troppo, di lavorare troppo e la registrazione del video mi salta. Per cui chiudo questa finestra e apro il progetto elaborato che è risultato alla fine di questa elaborazione. Progetto rapido. Eccolo qui, questo è l'output alla fine del progetto rapido. Quello che vedo è in questo momento un modello mesh con texture. Vedi comunque non è, anche se è stato rapido, la mesh e la texture sono venuti bene. Chiaramente non è super definita, non è super dettagliata, però le cose si vedono. Insomma si capisce di che cosa stiamo parlando che è una cava. E questo è confortante nel senso che sono confidente nel fatto che facendo l'elaborazione completa, quindi riprendendo tutti i vari step, avrò un output, un risultato soddisfacente. Qui dentro c'hai i prodotti, c'hai i prodotti dell'elaborazione, nuvola di punti sparsa. Quindi eccola qui, chiaro che i punti non sono tantissimi perché l'elaborazione è stata veloce. La nuvola di punti densa, la mesh semplice, questa è mesh colorata, oppure puoi visualizzarla in altri modi, ma poi lo vediamo quando trattiamo la mesh, la mesh con la texture. Questo, scusa, questo è il risultato dell'elaborazione rapida. Però come ti dicevo, mancando tutta una parte di appoggio topografico, di orientamento, questo modello, vedi, com'è rispetto a questo piano orizzontale, è impennato, ha un orientamento che non è corretto. Allora tu puoi correggere l'orientamento di questo modello, quindi puoi ruotare o traslare questo modello utilizzando questo tool qui, che è lo strumento di scala ruota trasla oggetto. Quando ci fai clic sopra ti si apre questa trackball che ti permette di fare delle rotazioni attorno agli assi, ti permette di fare delle traslazioni, oppure puoi lavorare in termini di informazioni in questa tabella. Ora, per quanto mi riguarda, lavorare su questo tool funziona, ma non è la scelta migliore se hai bisogno di un orientamento veloce in termini di piani orizzontali e direzione verticale. C'è un altro tool in Zephyr che secondo me è molto potente per fare questo, che è questo tool qua, è definisci vettore verticale manualmente. Questo tool ti permette di utilizzare le informazioni che ci sono già nel tuo modello tridimensionale e sfruttarle per far sì che Zephyr abbia la possibilità di definire il vettore verticale. Definendo il vettore verticale automaticamente hai anche una definizione di un piano orizzontale, perché il vettore verticale è normale al piano orizzontale. Allora, se tu ci clicchi sopra, ti si apre una finestra e hai tre opzioni. Definisci un asse, definisci un triangolo, lavora su un angolo. A mio avviso i più potenti sono questi due, poi dipende dal tipo di dato che hai, anche l'angolo in realtà funziona molto bene. Ti faccio vedere principalmente questi due qua. Allora, l'asse, se tu clicchi su asse, ti viene un'indicazione qua, ti dice seleziona due punti 3D per definire il nuovo vettore verticale. Cioè, quello che devi fare è, ho fatto un po' di casino, selezionare un vettore che sai essere verticale e sulla base di quello il software ti aggiusterà tutto il modello. Non puoi ruotare, o meglio, si puoi ruotare se non hai fatto la selezione. Per cui, ruotiamo il modello per andare a cercare qualcosa che sia verticale. Ok, non è per niente semplice se il modello è ribaltato, perché le rotazioni sono un po' sono un po' come si dice in inglese, tricky. Beh, facciamo finta di vedere, forse riesco a vedere qualcosa, ok. Questo è un piano pseudo verticale. Allora, vediamo cosa succede. Io clicco qui e seleziono due punti che sono qua. Più o meno posso pensare che questo sia un elemento verticale. Alla fine del processo, quello che è successo, beh, è già sicuramente meglio rispetto a quello che era prima, perché il modello prima era molto impennato, adesso quantomeno sia un po' più sistemato rispetto al piano orizzontale. Ma non va ancora molto bene. Lo strumento che, secondo me, funziona davvero bene in questo senso è questo, triangolo. Allora, prima vado a mettermi in una posizione in cui riesco a vedere un piano abbastanza orizzontale, anche se non è perfettamente orizzontale. Triangolo ti dice, seleziona tre punti per definire un piano in senso anti-orario, la normale al piano sarà il nuovo vettore verticale. Senso anti-orario vuol dire che il senso anti-orario di definizione dei punti definisce la direzione della normale. È un po' la regola della mano destra, quindi io devo definire tre punti in senso anti-orario. Quando ho chiuso il triangolo, la normale esce da questo piano in relazione a come li ho selezionati, per cui se voglio che la normale esca verso l'alto, devo selezionare un punto qui, un punto qui, un punto qui. Alla fine dell'elaborazione, Zephyr ha orientato il modello in modo tale che questo piano fosse orizzontale, o meglio che il triangolo che ho selezionato tramite quei punti fosse orizzontale, e la normale uscente è l'asse verticale del modello. Questo è uno strumento che secondo me è molto interessante, molto utile, e permette di fare un orientamento del modello tridimensionale di questo tipo, soprattutto in un caso come questo, dove non avevi informazioni di tipo di georeferenziazione tipicamente i punti di appoggio. Questo non vuol dire che non devi usare punti di appoggio, anzi per fare topografia sono necessari i punti di appoggio, per cui non fraintendermi che questa è la strada da utilizzare se vuoi fare fotogrammetria per la topografia. Non è questa, devi usare punti rilevati con strumentazione topografica, però è uno strumento che ti permette di condividere un dato in uno step preliminare, di sistemarti un modello tridimensionale anche soltanto per ispezionarlo e per vederlo in maniera agevole nello spazio tridimensionale. Spero che questo video ti sia stato utile, se ti va puoi condividerlo, se pensi che possa valere la pena sostenermi puoi farlo a www.3dimetrica.it slash supporta. Io ti ringrazio per averlo visto, ti do l'appuntamento al prossimo e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradeghini.